carissimi in cristo pace a voi siamo di nuovo insieme per meditare la parola del signore stamattina stasera voglio riflettere insieme a voi riguardo a un tema che credo sia molto importante al nostro tempo la chiesa è chiamata ad essere testimone di jesu christo abbiamo detto che la chiesa è chiamata ad essere testimone di jesu christo essere testimone è da un lato una grande responsabilità e dall'altro lato è anche un grande onore ma bisogna capire bene che cosa il signore intende perché noi siamo testimoni la testimonianza ha a che fare con il riferire qualcosa del quale si è avuto parte non si chiama testimoniare qualcuno che non ha vissuto in modo diretto o indiretto ciò di cui deve quindi quando Gesù disse ai discepoli voi mi sarete testimoni quindi quando Gesù disse ai discepoli voi mi sarete testimoni la testimonianza è fondamentale per tramandare qualcosa che noi abbiamo vissuto quando i nostri genitori ci raccontavano l'esperienza della guerra l'esperienza della fama della difficoltà economiche quando i nostri genitori raccontavano quando i nostri genitori raccontavano l'esperienza della guerra l'esperienza perché avevano vissuto quella esperienza perché non l'avissuto capire quello che è successo è quasi impossibile senza la testimonianza allora capite che la testimonianza è un tramandare un fatto di generazione in generazione oggi la chiesa è chiamata ad una responsabilità oltre che un onore di tramandare il messaggio di Cristo quindi ogni generazione che passa senza che l'esperienza di Cristo e con Cristo venga tramandato perde una grande opportunità voi sapete che per esempio in questi ultimi decenni si racconta molto della Shoah alle nuove generazioni perché? perché altrimenti si perde la conoscenza di un fatto importante perché se la Shoah è così importante quanto più importante è la storia di Cristo la Chiesa non può correre il rischio di non tramandare il fatto più importante di tutte le epoche e la Chiesa non può rischare il rischio di non trattare il fatto più importante una Chiesa che si distrae da questo impegno così importante c'è una città della vita in Cristo la vita in Cristo è la vita chiesa la vita chiesa la vita chiesa la vita chiesa ecco perché quando Gesù lasciò questa terra una delle prime cose che face è di dire voi mi sarete testimoni In Atti, capítulo 1, verso 8, Gesù ha detto «Voi mi sarete testimoni in Giuseppe, Giuseppe, Samaria, tutte le extremità della terra». Perché per Gesù il messaggio doveva essere passato alle prossime generazioni. Gesù guardava sempre alle prossime generazioni. In Giovanni, capítulo 17, quando pregò per la Chiesa, per i discepoli, disse qualcosa di fondamentale. Dice «Io non prego solo per costoro, quelli che ci sono ora». Ma prego anche per tutti coloro che crederanno per la loro parola. Gesù dava per scontato che quella generazione avrebbe tramandato alle prossime la storia della croce. Una Chiesa che non fa il compito, non svolge il compito di testimoniare una Chiesa che ha perso di vista l'obiettivo della Chiesa stessa. L'apostolo Paolo dice a Timoteo «Fa tante cose poi e fa l'opera di evangelista». Che cos'è l'opera di evangelista? Quella di testimoniare dell'opera di Gesù Cristo. Quindi, se noi non testimoniiamo, noi sminuiamo o sottovalutiamo l'importanza di quello che Cristo fa. Quindi, se noi non testimoniiamo, noi abesceniamo ciò che Cristo ha fatto. Il cristiano dovrebbe avere come primario obiettivo della propria esistenza di testimoniare dell'opera di Dio nella sua vita e nella vita dell'umanità. Molti perdono e spendono tempo a cercare qual è la chiamata per la loro vita. La chiamata per la nostra vita è essere testimoni dell'opera di Gesù Cristo. E l'apostolo Giovanni spiega questa dinamica nella prima lettera, capítulo 1. E l'apostolo Paolo объясnià questa dinamica. Giovanni. E spiega anche qual è la dinamica della testimonianza. Io ho investito due mattinati, due messaggi mattutini per dare un cenno su questo tema. Io ho potratito due ore, per raggiungere più in questo tema. qualcuno che ha avuto a che fare con un fatto e lo riferisce ad altri. Тот, con cui ha avuto a che fare con un fatto e lo riferisce ad altri. Abbiamo visto che essere testimoni è un onore, ma anche una responsabilità. E abbiamo visto che essere testimoni è importante per trasmettere ciò che noi abbiamo vissuto di Cristo, del Signore, alle prossime generazioni. Ma adesso andiamo a vedere come possiamo essere testimoni efficaci. Ma molti sono scoraggiati nell'essere testimoni per il fatto che non vedono risultati immediati. Molto ugnivano, non vogliono sapere, perché non vedono risultati. Quasi che si sentono investiti dell'onore, della responsabilità di convertire il prossimo. E quando non succede, sono scoraggiati. Ma il compito del testimone non è di convertire le persone. Ma la domanda è di fare conoscere le persone. Quella è una responsabilità che è dello Spirito Santo. Ma noi siamo chiamati invece a testimoniare, vedremo fra un po', in modo tale che lo Spirito Santo opriamo nelle persone. Ma noi siamo chiamati a seguitare, per il Signore, per l'Apostolo Giovanni ci spiega alcune dinamiche. E l'Apostolo Giovanni ci spiega alcune dinamiche. E Gesù ha detto, riceverete potenza, quando lo Spirito Santo scenderà su di voi, e allora mi sarete testimoni. E quando si sentono, quando si sentono, vi prendete potenza. E voi prendete potenza. Quindi per testimoniare c'è bisogno di potenza. perché la testimonianza, non è semplicemente un racconto di un fatto. Svidetelza è non solo un racconto di un fatto. Ma è la trasmissione di quel fatto alle persone. Ma è la trasmissione di quel fatto alle persone. E c'è bisogno di potenza spirituale per fare questo. E perché è lo Spirito Santo che convincere le persone di peccato, di giustizia e di giudizio. E quindi è lo Spirito Santo che opera. E quindi la potenza che ci serve è necessaria perché lo Spirito Santo operi. Quando chi testimonia è ripieno di Spirito Santo, l'efficacia di quella testimonianza è garantita. Quindi tutto il свидetelizzo è pieno di quello Spirito Santo, e il risultato è chiaro. Allora abbiamo visto che la testimonianza è importante. E abbiamo spiegato perché. E abbiamo visto ora, stiamo vedendo, che c'è bisogno di potenza per testimoniare con efficacia. Ma questa potenza è garantita. E questa potenza è garantita. Senza dubbio noi possiamo testimoniare con potenza e con autorità. Ma come? essendo riempiti di Spirito Santo. E quindi per una testimonianza efficace abbiamo bisogno di Spirito Santo. Ma oggi la Chiesa è distratta dalle tanti attività secolari, cioè del mondo di questo secolo, che ha perso la fame per la potenza di Dio. Il Signore mi ha parlato con chiarezza da mesi su un problema della Chiesa. Siamo concentrati sui nostri bisogni e vediamo la vita cristiana solo come risposta e soluzione ai nostri bisogni. E quindi diventa una sorta di circolo vicioso. Abbiamo bisogno che Dio opere nella nostra vita e ci concentriamo su quel bisogno. Noi bisogni arrivano e continuiamo sempre a torno ai nostri bisogni. E Satana che ha capito questa dinamica ci crea nuovi bisogni, nuovi problemi. E quindi noi siamo sempre a correre dietro ai nostri problemi. Noi dobbiamo spezzare questa dinamica. Noi dobbiamo spezzare questa dinamica. La nostra visione della vita deve cambiare. Nelle visione della vita deve cambiare. Il nostro bisogno primario non è soluzione ai nostri problemi, ma è testimoniale di Gesù Cristo. Поэтому, la nostra 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 vita è di risposta di risposta di Gesù Cristo. E l'apostolo Paolo lo ha detto con chiarezza. aveva problemi ha chiesto anche preghieri per quei problemi ma la sua attività non era condizionata da quei problemi che io vivo che io muore io sono del Signore che Dio risolva almeno il mio problema io svolgo il mio compito di testimone una visione spirituale della vita di questo tipo spezza le gambe al diavolo la chiesa deve riconcentrare la sua attenzione sul centro della sua chiamata essere testimoni di Cristo abbiamo la potenza che è la potenza soprannaturale del Spirito Santo abbiamo il mandato quindi l'autorità dataci dal Signore adesso svolgiamo il nostro ruolo e l'apostolo Giovanni appunto nella prima lettera alla chiesa prima Giovanni spiega qual è la dinamica per una buona testimonianza e l'apostolo Giovanni e l'apostolo Giovanni объясnia il suo primo di Cristo per loro testimoniare di Cristo era centrale non era qualcosa di secondario per loro lavorare svolgere le proprie mansioni era grazie un mezzo attraverso il quale potevano testimoniare il lavoro le attività servivano attraverso per testimoniare l'apostolo Paolo per un lungo periodo ha svolto il lavoro di costruttore di tende per avere i fondi necessari per il proprio sostentamento ma alla fine della settimana predicava la parola di Dio l'apostolo Paolo ha svolto per l'apostolo per l'apostolo per l'apostolo e in fin della settimana si vedete che dobbiamo cambiare l'obiettivo della nostra vita quindi vedete che dovete smanere completamente la città della nostra vita qualche settimana fa ho parlato del fulcro nesca 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 questo tema vedete che questo vedete che esser cristocentrici non è solo un fatto teologico ma è un fatto pratico di vita il lavoro le attività la famiglia la propria vita sono importanti ma dovrebbero girare attorno a un punto centrale Cristo in noi speranza di gloria e tutto deve крутire вокруг одного centra Christos per e raccontare le opere che Dio ha fatto per te e raccontare le cose che Dio ha fatto per te perché devi raccontare perché sei testimone dell'opera di Dio e attraverso la tua testimonianza altre persone possono essere partecipi dell'opera del Signore quindi через tue свидetel altri possono essere участник di Dio Christo noi dovremmo fare tutto possibile per diventare dei validi testimoni di Gesù Cristo in queste ultime settimane per aiutare delle persone che hanno bisogno di assistenza medica o a che fare con gli ospedali e v эти последние недели e io vedo subito capisco subito quali sono quegli operatori della sanità che svolgono la loro funzione con passione capisci subito quali sono quelle persone che vedono nel paziente l'obiettivo del loro lavoro sono persone che sono coinvolte in quello che fanno ovviamente vediamo anche operatori sanitari il cui obiettivo è solo ricevere l'assegno di fine mese qual è qual è differenza tra i due quelli che sono coinvolti emotivamente hanno al cuore il benessere del paziente si sentono chiamati si sentono in una missione da svolgere al centro della loro attività c'è il lavoro che gli è stato fidato invece quegli operatori che lo fanno solo per un fatto economico lo fanno con svolgatezza non pensando alla persona che hanno davanti e quando bisogna timbrare il cartellino vanno via subito noi siamo più importanti di operatori sanitari perché non ci occupiamo della salute fisica ma di quella spirituale noi dovremmo sentirci persone medici persone di soccorso per l'umanità il messaggio della croce di Gesù Cristo è il messaggio più importante di tutte le epoche ed è il più importante di questa epoca e veste a Christi Golgoth e Christi Isuse Christi è la la andiamo vedere qual è la dinamica della testimonianza prima lettera di Giovanni capitolo 1 leggeremo dal verso 1 al verso 4 quello quello era dal principio quello che abbiamo udito quello che abbiamo visto con i nostri occhi quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita che abbiamo visto e che vediamo i attraverso si si attraverso la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo vista e rendiamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna che era presso il padre e che ci fu manifestata e che avevo che avevo che avevo avuto che abbiamo visto e udito noi lo annunciamo anche voi perché voi pure siete in comunione con noi e la nostra comunione è con il padre e figlio suo Gesù Cristo che e voi emeli общение con nami e con e con Christ queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia completa voglio iniziare proprio questa ultima affermazione per Giovanni la completezza della propria gioia era la testimonianza alle persone di E per la her è come a свидetel di Is Christ riscriviamo queste cose perché la nostra gioia sia completa e si io pisse вам che be voce bella совершenna amén ricordate dell'operatore sanitario che timbrava e di quello che operava con passione lo stesso Giovanni nella terza epistola dice non c'è più grande gioia per me di sapere che i miei figli sono sani spiritualmente e tot же Samo Apostol Ian pisse in других главах e allora Giovanni sta dicendo quello che era dal principio quello che abbiamo udito quello che abbiamo visto con i nostri occhi quello che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita beh lo annunciamo in altre parole ve lo testimoniamo perché siamo testimoni perché siamo testimoni vi ricordate all'inizio ho detto che un testimone non racconta un fatto nel quale non è coinvolto che non 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 e si è fatta carne e ha abitato tra noi. Allora, che cosa significa tutto questo? Per Giovanni Cristo è centrale. Per Giovanni Cristo era, è e sarà per sempre. Per Giovanni testimoniare di Cristo è la cosa più importante. Cielo e terra passano, ma Cristo resta. E nebisai e semplici però Cristo sempre sarà. Noi se pensiamo che una cosa sia importante dirla alle persone la diciamo quella cosa. E se c'è un traffico bloccato, se c'è la polizia con l'autovelox o c'è un pericolo e subito noi lampeggiamo per testimoniare di quella cosa. se c'è la polizia con l'autovelox senza Gesù Cristo le persone vivono senza speranza. Bez Isusa Christa люди живut без надежды. Allora capite che ci deve essere passione nel testimoniare di Cristo Allora capite che ci deve essere e la polizia con l'autovelox e la polizia con l'autovelox senza Gesù Cristo non si va in cielo. E se è un po' 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 come se la chiesa è stata anestetizzata. Non sente il dolore per le anime che si perdono. Non sente il dolore per le anime che si perdono. Oggi il sentito di un'altra persona che non c'è più. Grazie a Dio era un credente se ne andate con il Signore. Ma quante persone attorno a noi scompaiano ogni giorno e non conoscono Christa? No, сколько людей вокруг нас umirà e non poznali Christa? E' un po' 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 che si perdono ma noi dobbiamo prenderci cura della nostra chiamata di testimoniare di Gesù Cristo l'unico Salvatore del mondo. Quello che era da principio non solo era da principio ma noi l'abbiamo udito possiamo testimonare abbiamo sentito la sua parola abbiamo sentito il suo amore siamo stati toccati dalla sua potenza abbiamo visto con i nostri occhi la sua gloria abbiamo contemplato la sua gloria pensate al giorno che siete stati salvati dal Signore подумate come pensate a quella gioia che sentite nel cuore è così o no помnete la rado che avevate trovato il Christo avevate incontrato il Salvatore del mondo Christo era entrato nella vostra vita avete visto la gloria avete conosciuto il suo amore avete conosciuto la via che lui ha indicato quello che noi abbiamo udito quello che abbiamo visto quello che abbiamo contemplato la contemplazione è un'arte è un'attività attraverso la quale si vedono dettagli una delle benedizioni della mia vita è vivere in un posto dal quale si vede il Gran Sass perché non lo sai il Gran Sass è la montagna più alta di tutta la catena peninica non sta a Venezia non sta Roma Firenze ma sta Pescare vicino Pescare quando io a volte la sera o la mattina la sera al tramonto vedo il sole che scende dietro la montagna è uno spettacolo straordinario e quando io vedo il sole il sole è un'attività che avvolgono la sagoma della montagna è una bellezza incredibile e da credente mi fa dire gloria a Dio per il creato e mi ho chiesto dire il momento slava a Dio per il creato ma questo è solo un esempio per dirvi che noi abbiamo conosciuto Cristo e lo abbiamo contemplato e lo abbiamo condensato io ricordo i primi tempi della mia conversione e poi quando il Signore mi ha battezzato con lo Spirito Santo andavo in bicicletta per due chilometri a prendere il bus perché la fermata era lontana da casa mia per chi sa dove abito sapete che abbastanza rettilineo c'è qualche curva ma niente di che perché io andavo l'occhi chiusi lo dava il Signore in bicicletta e io andavo e io andavo con la fermata del bus non mi rendevo conto neanche come avessi fatto perché ero rapito nel odare il Signore parlare in lingue e io doje da остановa lontana e non 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 perché ero totalmente affascinato dal Signore io lo contemplavo io proprio lontana Gesù io lo so sto cercando di descrivere la profondità della nostra esperienza con Cristo io ho proprio объясnić глубину наших отношений con Gesù la conversione non è un cambiamento di ideologia religiosa ma è un cambiamento di vita è una esperienza che crea un impatto per sempre è un'esperienza che nas потрясa per sempre e come possiamo non raccontare tutto questo quello che abbiamo visto con i nostri occhi che abbiamo contemplato quello che le nostre mani hanno toccato della parola della vita che trugano cioè c'è stata un'esperienza diretta personale con Cristo tutto questo ve lo raccontiamo ve lo testimoniamo ve lo annunciamo perché è frutto dell'esperienza vissuta alleluia è frutto di una relazione e frutto di un'esperienza di un'esperienza e quando non si stabilisce con le persone una semplice amicizia ma si crea un legame spirituale una comunione e la parola comunione tradotta qui così è in greco koinonia e è questa è la parola la parola la parola che non è una semplice comunicazione ma è una relazione ma è una trasmissione è una condivisione dell'esperienza con Cristo allora io ho visto ho contemplato ho toccato e nel momento in cui ti testimonio di Cristo si crea una connessione tra di noi e c'è una trasmissione e c'è una condivisione e ma delimse e siccome si sta condividendo non solo un'esperienza ma Cristo ma non ma non non di c'è una e si crea tra le persone il legame che solo Cristo può creare e si crea comunione e si crea comunione e poi l'apostolo Giovanni spiega non solo si crea una comunione tra noi ma perché la nostra comunione con Dio e con il suo figlio Gesù Christo la vostra comunione con noi diventa comunione con Luli e vostra con con questo è il miracolo della Chiesa e questo c'è il avro vita testimone di questo miracolo quando non ci raduniamo si crea una relazione una comunione tra di noi e sa in questa comunione c'è la sua morte la sua fine e e sa che in questa c'è il con la c'è la test monia perché quando testimoniamo si crea qualcosa nel mondo spirituale perché quando si ci c'è che che si aprono le gambe degli storpi spirituali si mettono in azione relazione con Dio adesso lo comunico anche a te e si crea tramite una comunione e poi quella comunione sarà insieme con Dio si crea quel famoso triangolo Dio io tu è fondamentale non c'è giorno che il mio pensiero non va alla necessità di stare insieme cosa mi spinge a venire il giovedì sera alle 20 qui a darvi la parola del Signore pensate voi che non sarebbe più comodo per me starmene a casa e al limite mandarvi un messaggio attraverso Zoom o quant'altro ma che io vivrò il giovedì sera c'è l'incontro di studio della parola e di predicazione della parola sarò qua ma perché si deve creare quella comunione che è frutto della testimonianza noi non abbiamo abbiamo idea di quanto bisogno c'è nel mondo di conoscere Christo e noi non dobbiamo cadere nella trappola di pensare che la gente non gli interessa e disinteressata le cose di Dio non è così certo che ci sono persone disinteressate ma ci sono persone affamate del Signore che devono conoscere Gesù Cristo il cuore di Paolo era la testimonianza se non credono per il anno dice l'apostolo Paolo ma come potranno credere se non c'è qualcuno che testimonia loro e come possono testimoniare le persone se non c'è qualcuno che è mandato dalla Chiesa a farlo e come possono свидetestare se non c'è qualcuno e non c'è qualcuno che è mandato la Chiesa non è un ristorante spirituale dove andiamo a goderci l'ultimo piatto inventato dalla casa e non è neanche una sorta di resort dove andiamo a fare un po' di terapia o fisioterapia la Chiesa è il luogo dove le persone vengono curate salvate portate a Cristo e c'è quando la Chiesa torna a compiere il suo mandato e vedremo il cambiamento nella società torna noi quindi vediamo come quando vediamo come gli sono pregando Dio per un risveglio e non è sbagliato pregare per il risveglio capite capite e non è non è che non è perché se non opero lo Spirito Santo le persone non potranno credere come abbiamo detto alla nostra parola e se non è se il Dio non potranno per il risveglio Dio ci dice risvegliati tu che dormi e risorgi dai morti e Christo ti non darà di luce e Gospod te aboya di luce della Chiesa o meglio la luce di Christo attraverso la Chiesa sarà irradiato nel mondo e quando il Svet Christo через Cercay ospetit la gente correrà a Christo perché la gente ha bisogno di Dio Alleluia se non lo crediamo noi che siamo coloro che devono testimoniar e se non 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 la nostra testimonianza è inefficace non puoi convincere qualcuno di qualcosa della quale non sei convinto tu allora dobbiamo tornare ad essere la Chiesa che testimonia la verità Alleluia quando Gesù arrivò sulla scena dell'umanità quando Gesù arrivò su questa terra c'era persone che stavano aspettando la sua manifestazione il suo arrivo c'era Maria questa donna profetessa che viveva nel Tempio c'era Simeone che allo stesso modo viveva pregando il Signore aspettando la manifestazione del Cristo e rabbini ogni sabbat insegnavano che Cristo doveva arrivare c'era un'aspettativa e ecco l'improvviso Giovanni il Battista annuncia a Gesù Christi e dice ecco l'agnelo di Dio che toglie il peccato del mondo e l'aspettativa era finalmente soddisfatta Alleluia e l'aspettativa e quando Gesù è arrivato il Signore ha messo nel cuore delle persone fame di Gesù e Gesù положil nel сердце людей di gola di Gesù ora seguite quest'ultimo passaggio un certo Andrea conobbe Gesù se non erro era stato Filippo a parlare e comunque Andrea ne ha parlato con suo fratello Pietro e notate cosa gli disse Andrea Pietro abbiamo conosciuto il Cristo abbiamo abbiamo conosciuto un certo profeta un certo insegnante che si chiama Gesù era testimone di qualcosa un fatto che stavano che stavano aspettando si era compiuto sotto i loro occhi e erano testimoni e quando Andrea ha comunicato a Pietro questo fatto pietro pietro seguito Andrea e ha conosciuto Gesù pietro a parlato le moltitudini che hanno conosciuto Gesù e pietro ha scritto le epistole che testimoniano di Gesù capite la dinamica della testimonianza non dobbiamo aspettare che il Signore converta mille di persone noi siamo chiamati a testimonianza perché queste persone si convertano al Signore allora per chiudere il cerchio stasera sì certo che dobbiamo vivere la nostra vita sì certo che dobbiamo fare carriera e svolgere le nostre attività finanziarie economiche sì certo che dobbiamo preoccuparci e occuparci delle nostre famiglie ma tutte queste cose le dobbiamo fare in vista della nostra testimonianza di Cristo che hanno conosciuto proselitisti o gente che va dietro ai proseliti noi siamo testimoni di Gesù Cristo il Signore la vita di Cristo ha avuto un impatto sulla nostra vita e lo vogliamo far sapere tutti quanti e e andrea ha detto abbiamo conosciuto il Cristo e andrea e che che era stato profetizzato per secoli è arrivato in mezzo a noi che notizia il e il mio nipotino direbbe wow dobbiamo dobbiamo imparare a dire wow alle cose del Signore allora Chiesa del Signore torniamo ad essere testimoni ovvio che è lo Spirito che opera ma noi dobbiamo anche imparare ad essere testimoni e Gesù ha dato disposizioni molto chiare ai Suoi discepoli perché fossero testimoni gli ha addestrati gli ha preparati gli ha ammaestrati per tre anni e mezzo il compito di Gesù primario era preparare i discepoli ad essere testimoni è come se il Signore ha organizzato dei corsi di addestramento in tutte le discipline delle attività umane c'è bisogno di addestramento o no? tornando all'esempio dei dottori se volete avere una buona cura andate da un dottore che si addestra che si prepara che si aggiorna ecco ecco il compito della chiesa locale voi che siete qui stasera siete qui per essere ammaestrati ma oggi le persone nella chiesa dicono se ho tempo verrò al corso di addestramento se hai per la cosa più importante della vita ma sei sicuro che tuttora essere testimoni di Cristo è la cosa più importante della tua vita io non so faccio una domanda sono troppo duro stasera non so ma apprezzo la vostra risposta no quale azienda darebbe un compito chiave a una persona che non è disposta a fare dei corsi di addestramento per l'attività che deve svolgere e oggi sembra che chiedere alle persone di venire nella casa di Dio di ascoltare la parola di Dio di ricevere gli insegnamenti sembra qualcosa di speciale troppo pressante dentro la ruota del criceto o siamo stati a servire il nostro Dio? Quante persone hanno ricevuto un impatto nella loro vita, nella nostra vita? E quanti persone hanno ricevuto un impatto nella nostra vita? Quante persone per averci conosciuto hanno avuto l'occasione di conoscere Cristo? Non è questo un'accusa, non è questo un'appuntare il dito, ma un richiamo all'attenzione per essere dei buoni testimoni di Cristo. E quando un giorno non ci saremo più, le nostre opere, i nostri insegnamenti, la nostra testimonianza dovranno restare. Amen? Le persone che ci hanno preceduti e sono andate con il Signore hanno lasciato un'eredità ad ognuno di noi. E i luigi, che erano перед nami, hanno lasciato una testimonianza ad ognuno di noi. Per me il dolore più grande è vedere queste nuove generazioni che non conoscono Gesù. bambini, ragazzi che non hanno alcuna idea di chi sia Gesù. Detti, подростchi, che non conoscono chi è Gesù. Sanno tutto dell'ultimo calciatore, del cantante più in voglia e così via dicendo, ma non conoscono Gesù. preferisco essere un po' antipatico e un po' un pungolo piuttosto che far finta di niente e lasciare correre le cose. io preferisco essere peniolo e antipatico e chiudere con l'inizio chiudendo. Io voglio cercare di niente e chiudere voi mi sarete testimoni e in Gerusalemme in Giudea in Samaria fino alle extremità della terra e Signore ci benedica. possiamo alzarsi in piedi e pregare insieme e vorrei pregare insieme a voi e insieme a coloro che ci ascoltano stasera. Padre Eterno noi ti ringraziamo stasera con tutto il cuore per l'onore e per la responsabilità che ci hai dato dandoci il mandato di essere tuoi testimoni per la chiesa e per la обязanità che tu нам dà che noi были свидetелями. Otec io молю che noi fossero достойными свидetелями per il nuovo поколение per loro per te milo e tua благ e preghiamo per le chiese in Italia e in tutto il mondo perché abbiano un tocco del tuo spirito Signore Signore parla ai cuori dei leader dei pastori degli anziani di ogni membro di chiesa perché si torni ad avere amore per la testimonianza e vogliamo farti la stessa preghiera che ha fatto Pietro insieme a Giovanni agli altri dacci signore franchezza franchezza libertà di parlare e che si compiano miracoli mezzo noi signore affinché la gente conosca che Gesù Cristo è il Signore ti ringraziamo nel nome di Gesù amén amén Dio vi benedica Dio vi accompagni Piacendo Signore ci vediamo domenica mattina questa domenica avremo la visita di un pastore dalla Moldavia e viene insieme alla molla i figli e un fratello sono un team che vanno testimoniando predica la parola del Signore e preghiamo perché domenica ci sia un culto infiammato dello Spirito Santo e che le persone possano conoscere Gesù anche attraverso questi fratelli e e signore ci benedica amén amén alleluia amén a